Nuovo metodo per vendere online, arriva Wallapop e in questo video vi spiego come funziona. Ma quanto è facile guadagnare con Wallapop? Ciao a tutti sono Daniele e bentornati su Subri Channel, oggi sono qua per spiegarvi come funziona Wallapop, ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Beh molti di voi potrebbero chiedersi ma vale veramente la pena fare una nuova applicazione per venderla online come se non ce ne fossero già abbastanza? E io risponderei assolutamente sì perché ogni applicazione porta qualcosa di nuovo che potrebbe sbaragliare la concorrenza o comunque portare delle novità che poi anche gli altri adotteranno. Qua stiamo parlando di una startup giovane nata nel 2013 in Spagna quindi direi molto più giovane rispetto a Vinted piuttosto che subito. E potrebbe appunto portare delle novità che magari anche poi gli altri adotteranno che potrebbero sbaragliare però per ora la concorrenza. Quindi non ci rimane altro che vedere come funziona. Come prima cosa bisogna dire che Wallapop funziona tramite applicazione che si può scaricare tramite App Store oppure Google Play. Ma allo stesso tempo come tutte le altre app del settore ha anche un sito web molto funzionale da cui si possono anche mettere in vendita i vari oggetti. Ritengo il sito web molto ben fatto soprattutto nell'home page perché si possono vedere le ricerche preimpostate dal sito con i prodotti ad esempio più ricercati sull'app per poi passare anche alla ricerca per categoria e ce ne sono veramente tante. Nella parte sottostante c'è poi una sezione che spoilerà un po' quello che andremo a vedere tra poco ovvero la possibilità di spedire con l'app a tariffe economiche. C'è inoltre un sistema di pagamento direttamente gestito proprio da Wallapop e c'è anche un sistema di garanzia che parla già di restituzione dei soldi in caso di prodotto ricevuto rovinato o non conforme da come descritto ma anche nel caso non arrivi proprio il prodotto stesso. Come prima cosa quindi direi che c'è bisogno di fare la registrazione che sia tramite App oppure tramite sito. Io nel dubbio ve le faccio vedere entrambe. Una volta scaricata e aperta l'applicazione si potrà fare l'accesso quindi con Facebook o Google ma anche registrarsi con l'indirizzo mail. Mentre se si è già in possesso di un account si può fare direttamente l'accesso. Dal sito web invece c'è il tasto apposito con scritto registrati o accedi ed anche qui si aprirà in automatico il pannello per fare l'accesso con Facebook o Google oppure registrarsi tramite mail. Premetto però che se voleste dare un'occhiata in generale al sito web o l'applicazione non c'è bisogno assolutamente di registrarsi. Tramite il sito web infatti c'è la possibilità di fare qualsiasi tipo di ricerca tramite la barra posta in alto scrivendo ad esempio iPhone 10 escono tanti risultati correlati alla parola cercata. Se aveste deciso poi di creare il vostro account tramite Google o tramite Facebook oppure inserendo la mail la prima cosa che vi consiglio di fare è andare nelle impostazioni e impostare appunto il vostro profilo perché ce ne sono alcune veramente interessanti. Dal sito web c'è la sezione la mia area dove poter accedere al profilo per poter caricare ad esempio una foto poter cambiare nome e cognome ed attivare la posizione dei prodotti. Questo servirà a vedere innanzitutto dove si trovano i prodotti degli altri utenti nelle nostre vicinanze e poi per permettere anche agli altri di vedere dove ci troviamo noi per eventualmente un acquisto di persona. Nella sezione account invece si potrà cambiare la data di nascita ed il genere ma anche mail e password oltre ai dati personali si può accedere anche alla sezione del profilo dove vedere gli oggetti in vendita venduti o quelli non attivi. C'è anche la sezione dei messaggi in cui troveremo tutti i messaggi con gli utenti come se fosse un social. La sezione preferiti in cui troveremo sia i prodotti preferiti sia i profili che avremo salvati e infine come le altre app c'è anche la parte dedicata alle recensioni e in ultimo le statistiche. Se volete utilizzare l'applicazione non preoccupatevi perché è molto semplice. Innanzitutto andando in basso sulla destra troveremo una faccina che sarà proprio la sezione dedicata al nostro profilo. Infatti basterà cliccare sulla sezione dedicata per poter accedere ai prodotti in vendita alla sezione in cui si può tracciare un eventuale prodotto che abbiamo venduto ed anche inserire il nostro indirizzo ed infine accedere alle impostazioni. Nelle impostazioni anche qui si può modificare il profilo inserendo la foto oppure il nome e cognome e anche la posizione scegliere il genere la data di nascita ed anche qui cambiare l'indirizzo mail. Nella sezione dei controlli di sicurezza invece si può verificare il numero di cellulare, cambiare la password e collegare l'eventuale account Facebook e Google a meno che non sia stata fatta la registrazione dall'applicazione con uno di questi ultimi. Ritengo infine molto interessante per la parte smartphone la gestione delle notifiche con chicche veramente interessanti. Nella sezione notifiche infatti innanzitutto si potranno attivare o disattivare le notifiche per i prodotti scaduti cosa che ritengo una gran genialata. Tutto ciò perché ovviamente una volta che pubblicheremo un prodotto dopo un tot scadrà e con una notifica apposita potremo essere avvisati quando il prodotto sarà semplicemente da rimettere in vendita. Si potranno però anche attivare le notifiche dedicate ai preferiti ed anche qui la ritengo una cosa molto interessante perché verremo avvisati quando un prezzo di un oggetto verrà ribassato e quando il prodotto non sarà più disponibile per la vendita o quando sarà riservato ad un altro utente ma anche quando un venditore che stiamo osservando aggiungerà un nuovo prodotto. In ultimo si potranno anche attivare eventuali notifiche per essere avvisati su eventuali consigli di vendita oppure sulle promozioni e le novità. Ora andiamo a vedere che cosa succede quando entriamo in un qualsiasi articolo. Dallo smartphone in alto a destra ci sarà la possibilità di cliccare sul cuore per mettere l'oggetto tra i preferiti e quindi ricevere tutte le nostre notifiche oppure subito accanto il tasto per la condivisione dell'annuncio ma si potranno anche cliccare i tre pallini per segnalare l'articolo. Segnalare un articolo la ritengo una cosa molto utile indipendentemente dal portale di vendita in cui ci troviamo perché si sa l'assistenza non può fare tutto e quindi per rendere più sicuro e bello un posto per tutta la community segnalare è importante. Possiamo segnalare un annuncio se vediamo in vendita persone o animali se riteniamo che l'annuncio sia uno scherzo cosa che onestamente non ho capito che cosa intendano ma se l'avete capito voi scrivetemelo nei commenti. Se un articolo è falso se c'è un contenuto esplicito quindi un'immagine ad esempio di nudo se la foto non corrisponde al titolo o alla descrizione cosa molto importante da segnalare se si tratta di cibo bevande ma anche droghe o medicinali e se notiamo un articolo ad esempio duplicato. In questo caso ad esempio potrebbe essere molto interessante da segnalare se ad esempio ci hanno rubato una foto di un nostro oggetto per metterlo in vendita a loro volta e magari truffare qualche utente. Infine si può anche segnalare un prodotto o un servizio vietato la rivendita di biglietti oppure la pubblicità o lo spam. Sempre analizzando l'annuncio troveremo la foto o le foto se saranno più di una troveremo dei pallini bianchi ad indicare che appunto ce ne sarà più di una e non solo una. Il prezzo che potrà essere a cifra tonda o anche in centesimi ed il titolo. Subito sotto il titolo ci sarà un'anticipazione dei costi che avremo per la spedizione ma non in tutti gli annunci e si potrebbe anche notare lo stato dell'oggetto che quindi non è obbligatorio inserire. Per lo stato dell'oggetto ovviamente intendo il classico nuovo mai usato buono oppure in cattive condizioni. Anche qua non in tutti gli annunci ma sotto lo stato dell'oggetto si potrebbe trovare la categoria che se cliccata porterà ad una ricerca personalizzata in quella determinata sezione. Infine nella parte ancora sottostante troveremo la descrizione in cui potremmo anche attivare o disattivare un'eventuale traduzione. Ovviamente come in tutte le app che traducono proprio perché ci si rivolge a una community internazionale la traduzione non è sempre al 100% impeccabile perché si userà Google traduttore. Quindi potrebbe essere utile anche non tradurre eventualmente per poi se conosciamo la lingua ovviamente interpretare quello che c'è scritto. Nella parte subito sottostante troveremo la sezione dedicata agli hashtag. Interessante perché cliccando su di essi si potrà accedere ad una ricerca automatica che includa tutti i prodotti che hanno quel determinato hashtag. Nella sezione dei metodi di spedizione troveremo quanto ci metterà l'oggetto ad arrivare al punto di ritiro oppure direttamente a domicilio perché ci saranno due costi di spedizione separati per appunto una delle due scelte. La parte molto interessante è anche quella che riguarda la garanzia. Viene infatti segnalato nell'annuncio che il pagamento è sicuro e come si può vedere in alto a destra sotto la foto si può fare tramite Paypal o tramite carte ma vi anticipo già anche tramite wallet di Wallapop. Molto interessante anche la sezione riguardante lo stato dell'oggetto ovvero da quanto tempo è stato inserito oppure modificato ma anche quante visualizzazioni ha avuto e quanti lo hanno messo nei preferiti. Qua arriva la parte molto interessante dedicata alla localizzazione perché ci sarà la possibilità di vedere il cap e la città del venditore e cliccando sulla mappa si potrà visualizzare nello specifico la città tramite Google Maps. Ovviamente non vedremo l'indirizzo specifico della persona ma ci darà un'idea in che città si trova l'oggetto quindi quanto è distante da noi ad esempio se potremmo andare a ritirare l'oggetto di persona oppure se avremmo bisogno di una spedizione. In ultimo c'è il profilo del venditore composto dalla foto il nome e le recensioni con anche un tempo medio di risposta e la possibilità sulla destra di aggiungere ai preferiti il venditore stesso. C'è anche il tasto di chat che ci permetterà quindi di interagire con il venditore proprio come se fosse un social per acquistare direttamente l'oggetto o chiedere informazioni aggiuntive. Nello specifico entrano nella chat oltre appunto a conversare con il venditore e poter cliccare sul pulsante acquista ci sarà la possibilità di eliminare la conversazione, segnalare l'articolo e segnalare l'utente e ovviamente bloccare la conversazione il tutto cliccando sui tre pallini in alto a destra. In ultimo voglio farvi vedere come funziona il profilo di un venditore per vedere che cosa un acquirente vede quando deve acquistare un oggetto per l'appunto su Wallapop. Si può accedere al profilo del venditore cliccando prima di entrare in chat sulle stelline dei feedback oppure anche tramite chat sulla foto del profilo. Qua si potranno vedere le vendite e gli acquisti totali fatti con le spedizioni fatte e si potrà nuovamente visionare la posizione ma si potranno anche visualizzare tutti gli articoli che il venditore propone. Sempre da questa sezione si può accedere anche alla parte delle recensioni secondo me fatte molto bene perché si può visionare l'oggetto che è stato acquistato cliccando sulla foto ed anche vedere il profilo del venditore che ha acquistato quel determinato oggetto. Ci sarà ovviamente anche il titolo dell'oggetto acquistato e sarà segnalato se l'articolo è stato inviato con Wallapop oppure no. Anche qua le recensioni potranno essere tradotte proprio perché stiamo parlando con una community internazionale quindi le vendite e gli acquisti possono essere fatti in tutta Europa. In ultimo c'è la possibilità di vedere nella sezione info che informazioni dell'account sono state verificate come ad esempio indirizzo mail oppure numero di telefono ma anche l'account facebook entro quando l'utente risponde e da quanto è iscritto all'applicazione. Tutto ciò ci potrebbe essere molto utile per beccare un eventuale account fake e di conseguenza un truffatore e vi ho fatto vedere tutto ciò da cellulare perché penso sia il metodo più utilizzato da tutti voi ma diamo una rapidissima occhiata anche come si vede tutto ciò tramite sito web. Nella pagina del prodotto in alto ci sarà sempre la categoria che si potrà cliccare per accedere rapidamente alla sezione di prodotti che si trovano in quella stessa categoria e anche qui ci sarà il profilo del venditore che si potrà cliccare per entrare a vedere tutto ciò che il venditore propone. Ci sarà anche qui la possibilità di mettere il prodotto tra i preferiti ed anche di avviare una chat ci saranno inoltre la foto o le foto disponibili e tutte le info del prodotto tra il titolo e la descrizione e anche qui le visualizzazioni con la possibilità di vedere quanti utenti hanno messo nei preferiti quel determinato oggetto ed infine la posizione. Il video termina qui ma ricordatevi di iscrivervi al canale e rimanere sintonizzati perché nelle prossime settimane arriveranno altri video su come vendere e comprare su Wallapop come avete visto le carte in regola per sbaragliare la concorrenza ci sono tante novità molto molto interessanti sicuramente un'applicazione da tenere d'occhio. Ehi il video non è finito qua a quei lati troverete l'ultimo video caricato e uno consigliato direttamente da youtube mentre qua al centro il tasto per iscrizione non dimenticatevi che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network il prossimo appuntamento venerdì alle 14.